Chiusi i seggi per le elezioni dei nuovi componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ieri risultati che hanno decretato una vittoria schiacciante per il Presidente uscente Gerardo Cappelli, che ha quindi i numeri per poter essere riconfermato alla Guida dell'Ordine. 354 le preferenze ottenute dall'Avvocato Cappelli, eletto per la prima volta alla Guida dell'Ordine di Lago Negro, nel 2015, nelle elezioni effettuate a seguito della fusione avvenuta nel 2013. Cappelli aveva già svolto il ruolo di Presidente dell'Ordine a Sala Consigna durante il periodo dell'applicazione della riforma della geografia giudiziaria che ha chiuso il foro di giustizia salese con il comprensorio che è andato ad ampliare la giurisdizione del Tribunale di Lago Negro, mentre gli Avvocati entrarono di diritto a far parte del Consiglio dell'Ordine presieduto allora da Rosa Marino. Nel 2015, poi, le elezioni che hanno visto Cappelli, eletto come Presidente per la prima volta dell'Ordine di Lago Negro. Proprio in virtù della sua precedente esperienza alla Guida dell'ente di Sala Consigna, quindi ente diverso dal Lago Negro, la sua elezione, qualora venisse confermato Presidente dell'Ordine, potrebbe non essere messa in discussione con la nuova legge, numero 113 del luglio 2017, che impedisce la ricandidatura per due mandati consecutivi e la successiva pronuncia della Cassazione rafforzata dal decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, che ha confermato quanto sancito dalla Cassazione in riferimento alla retroattività della legge in materia proprio di elezioni forensi. A rafforzare tale ipotesi la pronuncia del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, che in una situazione analoga ha evidenziato come si tratti di ente giuridico diverso con elettorato diverso. Intanto sarà mercoledì prossimo 16 gennaio la data in cui saranno ufficializzate le nomini all'interno del Consiglio dell'Ordine. Forte dei suoi 354 voti, quasi 150 in più rispetto al secondo Paolo Alfano, Gerardo Cappelli e sicuramente tra i favoriti a ricoprire la carica di presidente. Mercoledì, alle ore 11, il Consiglio si riunirà anche per eleggere il segretario e il tesoriere. Entrano in Consiglio insieme a Gerardo Cappelli e all'avvocato Paolo Alfano, anche Claudia Colitti, Sebastiano Tanzola, Maria Teresa Lafroscia, Maria Pia Iannibelli, Pietro Infantino, Luciana Morelli, Raffaella Manzolillo, Eugenio Di Bisceglie e Giovanni Leonasi.